Un saluto a tutti quanti gli amici militanti del centrodestra, del popolo della libertà e di tutta quanta la coalizione che sostiene alle elezioni comunali e amministrative al ballottaggio Gianni Alemanno e per il decimo municipio ex tredicesimo Cristiano Rasi. Innanzitutto questo è un appello per il popolo di centrodestra per indurlo a votare assolutamente per non consegnare la nostra città di Roma capitale e Ostia, il decimo municipio ex tredicesimo ai comunisti al centro-sinistra. Non facciamo lo stesso sbaglio della regione Lazio, non consegniamo anche il comune di Roma alle sinistre come abbiamo fatto con la regione con Zingaretti. Dall'altra parte come candidato c'è Ignazio Marino, non si può assolutamente vedere, è impresentabile, ha dei valori dubbi sulla sua moralità. Quindi cosa vi posso dire? Ce la possiamo fare con grinta e tenacia? Dobbiamo cercare di far votare il nostro popolo, il popolo del centrodestra che deve andare il 9 e il 10 giugno alle urne elettorali, chi non ha la scheda deve prendere presso il municipio di appartenenza e deve esprimersi con il voto. Dobbiamo difendere la nostra città per riconfermare. Per la scheda azzurra vedete questo è un fax simile del voto che troverete. Doverete soltanto barrare il simbolo e il nome di Giovanni Alemanno per la scheda azzurra e per la scheda rosa per il decimo municipio, ma gli altri municipi saranno tutti quanti così, ma per il decimo municipio ex tredicesimo, quindi ostia dintorni, barrare il simbolo di Cristiano Rasi e così abbiamo fatto il nostro dovere. Mi raccomando andate a votare e votare bene alla vittoria. Non dobbiamo consegnare il Comune di Roma alle sinistre comunisti, ce la possiamo fare. Uno sforzo in più per festeggiare. Grazie a tutti.